Qual è la connessione tra goi e il cancro? Molti alimenti diversi sono noti come superalimenti, alimenti con diversi benefici per la salute. Le bacche di goi, considerati un superalimento, possono avere proprietà antitumorali, tra molti altri benefici. Sebbene non esista alcuna prova concreta che supporti il legame tra goi e cancro, alcuni studi indicano che il goi potrebbe essere usato come integratore alimentare anti-cancro. Le terapie alternative contro il cancro sono molto popolari, in quanto producono in genere meno effetti collaterali rispetto ai trattamenti tipici del cancro. Se viene trovata una connessione definitiva tra goi e cancro, può essere raccomandata come parte del piano di trattamento di un paziente. Anche se un legame tra goi e cancro deve ancora essere stabilito negli esseri umani, potrebbe essere visibile in un laboratorio. Alcuni studi indicano che l'estratto di frutta di goi può uccidere le cellule cancerose all'interno di una provetta. Le bacche di goi possono essere assunte in vari modi. Il succo di goi può essere assorbito, così come il tè di bacche di goi. Gli integratori di goi, come le capsule di goi o le compresse di goi, possono essere acquistati anche come integratore alimentare. Sebbene il presunto superfood possa o meno combattere il cancro, contiene molte altre proprietà salutari. Conosciuto anche come wolfberry o liceum barbarum, la bacca di goi è ricca di antiossidanti e diverse vitamine chiave. La pressione alta può essere trattata con integratori di goi. Le persone con problemi di stomaco, colesterolo alto o lieve depressione possono trovare sollievo nel rimedio. Gli antiossidanti che possono servire come collegamento tra goi e cancro offrono proprietà migliorative del sistema immunitario. Il glaucoma, l'infiammazione e le malattie cardiovascolari possono anche essere trattati con il superfrutto. Diversi paesi, tra cui Cina, Svizzera, Tibet e Giappone, usano i rimedi della bacca di goi nella loro medicina tradizionale. L'ingrediente attivo chiave trovato in bacche di goi, noto come germanio, è stato conosciuto per ridurre la crescita dei tumori. È lodato per i suoi numerosi benefici di lotta contro il cancro da parte di scienziati giapponesi. Se la connessione tra goi e cancro diventa evidente negli esseri umani, il frutto può aiutare a scongiurare o trattare tali malattie come il cancro del collo dell'utero, il cancro ai testicoli, il cancro dell'utero, il cancro ai polmoni e il cancro del fegato. Le persone che assumono farmaci per il diabete dovrebbero consultare un medico prima di assumere integratori di goi. La bacca può interagire con i farmaci usati per curare la malattia, così come altri. La frutta di goi è altrimenti considerata sicura per il consumo per la maggior parte delle persone ed è disponibile nella maggior parte dei negozi di alimenti naturali. Alcune persone considerano il frutto abbastanza gustoso. Può essere utilizzato in dessert, frullati e molte altre ricette. Il frutto può anche essere acquistato in molti supermercati, in genere in forma di succo.